Musica Droga con il marchio Messina Denaro e Rina, arrestato un 28enne marsalese. Sospesa l'insegnante Laura Buonafede coinvolta nell'inchiesta su Matteo Messina Denaro. Turano, questa donna, non deve avere più alcun contatto con il mondo della scuola. I giovani che decidono di isolarsi dalla società e il titolo della rubrica Secondo me a cura del dottor Riccardo Larosa. Il mazzarese Pietro Vassallo, campione d'Italia categoria Juniors maschile Cinture Nere di Taguandone. Ben ritrovati al Tg8 in formazione sul canale 117 di Teleotto e in streaming sulle nostre pagine social. Apriamo con una folta pagina di cronaca. Droga con il marchio di Matteo Messina Denaro e di Totò Rina. È stato arrestato dai carabinieri un 28enne marsalese. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Marsala, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno scoperto in vero e proprio deposito all'ingrosso di sostanze stupefacenti che fungeva anche dal laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Da giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino della periferia marsalese fino a quando hanno fermato un incensurato del posto di 28 anni che dopo aver aperto con le chiavi aveva fatto ingresso nel deposito rimanendo per circa un quarto d'ora. Una volta uscito i carabinieri lo hanno bloccato a bordo della propria auto e a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto nella tasca del giovane un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura. Nel magazzino i carabinieri si sono trovati dinanzi a un vero e proprio stock di stupefacenti di vario tipo tra cui anche panetti di hashish recanti le effigi di Salvatore Riina, Matteo Messina Denaro e del noto personaggio del padrino. I militari hanno complessivamente sequestrato 13 chili di hashish, 700 grammi di cocaina pura e 700 grammi di marijuana contenuta in diversi sacchetti di plastica. Nel magazzino è stata trovata anche una macchina per il confezionamento sotto vuoto, due bilancini elettronici e diverso materiale utile per il taglio della sostanza. Nella stessa serata sono state effettuate altre perquisizioni in abitazioni e auto nella disponibilità del soggetto fermato, rinvenendo appunti e contabilità al vaglio dei carabinieri. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200 mila euro. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto per l'arrestato la custodia cautelare in carcere. In merito alla vicenda Matteo Messina Denaro, i coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Anin Falanceri, arrestati giovedì nell'ambito dell'inchiesta sui fiancheggiatori del BOS, restano in silenzio e si sono avvalsi davanti al GIP della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio si è svolto ieri davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo, Alfredo Montalto, alla presenza degli avvocati Giuseppe Clizia Ferro. I coniugi Bonafede sono entrambi originari di Campobello di Mazzara. A casa della coppia Matteo Messina Denaro si recava a pranzo e a cena. Sono indagati per favoreggiamento e procurate in osservanza di pena, aggravati dall'agevolazione di Cosa Nostra. La donna per la quale il capo mafia aveva coniugato lo pseudonimo di Letta aveva una relazione con Messina Denaro. Così emerge dal contenuto di alcune lettere sequestrate all'atitante. Ma in merito sempre alla vicenda del BOS, l'insegnante Laura Bonafede, figlia del defunto Leonardo, è indagata dalla DDA di Palermo per il presunto legame con Matteo Messina Denaro. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale all'istruzione e formazione in Moturano. Questa donna non deve avere più alcun contatto con il mondo della scuola. L'insegnante Laura Bonafede è stata sospesa dalla scuola Capuana Pardo di Castelvetrano per dieci giorni. Il provvedimento cautelare è stato adottato dal dirigente scolastico Vania Stallone, in considerazione della vasta eco-mediatica suscitata dal presunto legame dell'insegnante con il BOS mafioso Matteo Messina Denaro e al fine di tutelare l'immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell'attività scolastica, chiarisce il dirigente. Il provvedimento è stato ratificato dal direttore regionale dell'ufficio scolastico Giuseppe Pierro. Attendo da parte dell'autorità giudiziaria la documentazione sulla posizione giudiziaria dell'insegnante per così poter avviare il provvedimento disciplinare, ha chiarito il direttore Pierro. L'insegnante Laura Bonafede, figlia del BOS defunto Leonardo, è indagata dalla DDA di Palermo. La Bonafede si è incontrata al supermercato con Matteo Messina Denaro quando era latitante e tra le lettere e i pizzini risulta una corrispondenza tra i due. La vicenda del coinvolgimento della maestra della scuola di Castelvetrano nella latinanza di Matteo Messina Denaro costituisce una priorità all'attenzione della regione siciliana e dell'assessorato all'istruzione. Apprendiamo dall'istituto comprensivo Capuana Pardo di Castelvetrano, con cui siamo in costante contatto, che la dirigente scolastica ha firmato la sospensione cautelare dal servizio dell'insegnante Laura Bonafede da domani e fino al 31 marzo. Lo dice l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mimmo Turano dopo i procedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della docente. Si tratta di un primo passo che sarà certamente seguito da un provvedimento disciplinare emesso dall'ufficio scolastico regionale che è preposto a questo compito, ha aggiunto Turano. Da parte mia scriverò al ministro dell'istruzione e del merito Valditara perché possa prendere ulteriori provvedimenti necessari affinché questa persona non abbia più alcun contatto con il mondo della scuola, tenuto conto del clamore negativo e del turbamento che il provvedimento giudiziario a suo carico ha suscitato nella collettività e in particolare nell'ambiente scolastico e delle conseguenti ripercussioni sull'intera istituzione scolastica regionale di cui possono essere compromesse la credibilità e l'immagine. Abbiamo il dovere, conclude Turano, di difendere il lavoro di tanti docenti degli istituti siciliani che quotidianamente trasmettono valori di legalità ed etica agli alunni e che sono alla base della scuola. Sono stati sequestrati beni per 470 mila euro dalla Guardia di Finanza di Palermo a un commerciante palermitano della CEP accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legate al bonus cultura. Il titolare di una cartolibreria nel quartiere CEP tra il gennaio 2017 e novembre 2021 secondo gli investigatori attraverso raggiri contabili e false attestazioni era riuscito a ottenere il rimborso del costo dei beni solo fittiziamente ceduti a fruitori del beneficio per un ammontare di circa 470 mila euro. In particolare i militari dopo aver raccolto alcune testimonianze hanno acquisito numerosi elementi che hanno evidenziato come il titolare sostituendosi agli studenti mediante l'utilizzo delle loro credenziali avrebbe riscosso dal Ministero dei beni culturali le somme connesse al voucher erogato dallo Stato per finalità esclusivamente culturali per i diciottenni. Maxi truffa su auto riciclata e la polizia di Caltanissetta emette nove misure cautelari. Ascoltiamo il servizio. La polizia di Caltanissetta ha eseguito nove misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della procura nell'ambito dell'operazione Fake Cars che ha smantellato un'organizzazione che avrebbe riciclato autoveicoli acquistati attraverso truffe ai danni di società finanziarie o provenienti da furti. Cinque dei nove indagati sono indiziati a vario titolo di avere promosso, costituito e partecipato l'associazione per delinquere che operava tra il territorio campano e siciliano. I reati contestati sono falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, ricettazione e riciclaggio. Due di loro sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. Gli altri quattro indagati interessati dal provvedimento cautelare sono sottoposti all'obbligo di firma. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dalla Polstrada. Sono stati individuati complessivamente 54 veicoli di provenienza illecita rivenduti a dignari cittadini per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Gli acquirenti hanno subito anche il sequestro delle vetture. I veicoli individuati durante le indagini sono tutti circolanti in diverse regioni italiane e in quasi tutte le province siciliane. I PM, oltre a richiedere l'applicazione delle misure cautelari personali, hanno richiesto al GIP di disporre il sequestro preventivo di nove autovetture del valore complessivo di 200.000 euro. La questura ha reso pubbliche anche le fotografie di due degli indagati, Eugenio Amico e Michele Giarratana, al fine di individuare altre persone offese vittime della truffa, considerato che i due indagati hanno più volte utilizzato documenti falsi per stipulare contratti. Ma ancora un'indagine da parte della Guardia di Finanza, gioco d'azzardo a Palermo, sono stati sequestrati beni per 7,5 milioni di euro all'imprenditore del settore delle scommesse Enrico Splendore. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA per 7,5 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore del settore delle scommesse Enrico Splendore, di 56 anni. Il provvedimento è diventato irrevocabile con sentenza della Cassazione. Splendore è stato condannato per il reato di esercizio di giochi d'azzardo e per associazione per delinquere ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse per essere stato a capo di un'organizzazione finalizzata la gestione di scommesse clandestine attraverso una capillare rete di raccolta parallela rispetto a quella dei centri di scommesse autorizzati che si avvaleva di programmi informatici elaborati ad hoc, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia affermano i giudici. Il procedimento di prevenzione ha fatto emergere, secondo l'accusa, grazie agli approfondimenti economico-patrimoniali svolti dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, GICO, una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni e le attività nella disponibilità di splendore, tra cui l'omonimo VAR nella zona di Corso dei Mille. La confisca è scattata per quattro immobili a Palermo, due rapporti bancari, l'intera azienda individuale BAR Splendore, quote di partecipazione al capitale sociale di un'azienda che opera nel settore dei trasporti e tre autoveicoli. Cambiamo argomento, andiamo alle news dal territorio. Ci perviene una nota da parte del Comune di Mazzara del Vallo, eccezionalmente per questa settimana la raccolta della plastica e dell'alluminio verrà anticipata da sabato 25 marzo a giovedì 23 marzo. L'anticipo del servizio è stato richiesto per motivi tecnico-organizzativi della società Multi-Ecoplast, capogruppo del raggruppamento di imprese che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune. Solo per questa settimana, pertanto, gli utenti sono invitati ad esporre i mastelli di colore blu del multimateriale, contenenti esclusivamente plastica e alluminio, dalla serata di mercoledì 22 marzo all'alba di giovedì 23 marzo, in quanto la raccolta di plastica verrà svolta giovedì e non il sabato, come da calendario. Ma ci spostiamo a Petrosino dove si è svolto ieri il primo consiglio comunale dopo l'arresto del consigliere Buff e le dimissioni del presidente Aldo Caradonna. Liliana Giordano è stata eletta nuova presidente del consiglio comunale. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Il consiglio comunale di Petrosino, riunito ieri sera in aula a Vito Marino, ha votato in apertura di seduta il suo nuovo presidente, dopo le dimissioni dalla carica di Aldo Caradonna. Eletta con sei voti a favore su nove, la consigliera Liliana Giordano, la prima donna a rivestire questo ruolo nel comune di Petrosino. Subito dopo l'elezione all'ordine del giorno, la discussione sul rendimento di gestione dell'esercizio finanziario 2021. Il comune di Petrosino è in disavanzo di amministrazione per quasi 19 milioni di euro. Un dato che conferma la disastrosa situazione contabile e finanziaria in cui versa lente. Il rendiconto 2021 votato dal consiglio non è stato approvato. Sei i voti contrari, due le astensioni. Un quadro dunque strutturalmente deficitario che fotografa lo stato di salute dell'ente al 31 dicembre 2021, a cui si aggiunge un'ormai cronica deficienza di cassa che non consente al comune di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Dopo un acceso di battito in aula, il documento contabile è stato bocciato demandando la decisione al commissario ad acta che ha già diffidato il Consiglio Comunale a procedere con l'approvazione del documento anche in considerazione del fatto che il rendiconto di gestione è adempimento obbligatorio, indifferibile e urgente. Prendo atto della decisione del Consiglio Comunale di non approvare il rendiconto. Le motivazioni politiche addotte dalla mia maggioranza mi sembrano chiare. Abbiamo trovato una situazione finanziaria disastrosa con la mancata approvazione di documenti contabili indispensabili per la gestione di un comune fermi addirittura al 2019, dichiara il sindaco Giacomo Anastasi. Questo ha comportato tutte le enormi criticità già più volte descritte. Una gestione provvisoria che ha limitato enormemente il mio operato e il blocco dei trasferimenti statali che hanno ancora di più esacerbato una già disastrosa condizione di mancanza di liquidità. Responsabilmente, aggiunge il primo cittadino, abbiamo fatto tutto ciò che era possibile in questi mesi e con l'approvazione del rendiconto 2020 la mia maggioranza ha dimostrato enorme senso di responsabilità. Adesso, anche a fronte di un parere non conforme del Collegio dei Revisori Contabili, comprendo la decisione di fermarsi e rimandare agli altri organi competenti l'approvazione del rendiconto. Continuo a sottolineare il fatto che stiamo parlando di un rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2021, di una fotografia dunque delle spese del Comune fatte dalla precedente amministrazione. Il Comune di Sant'Aninfe è stato ancora una volta tra i primissimi in Sicilia ad approvare il bilancio di previsioni. Il Consiglio Comunale ha infatti detto sì allo schema contabile proposto dall'Aggiunta, sei voti favorevoli e tre gli astenuti. Ad evidenziare il risultato il Sindaco Giuseppe Lombardino, che ha sottolineato la capacità di programmazione dell'amministrazione e la collaborazione fattiva degli uffici a partire da quelli finanziari retti dalla dirigente Mimma Mauro. Prima del voto finale sullo strumento finanziario, l'Aula ha anche approvato il DUP, il documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l'anno in corso. L'Assemblea ha poi approvato all'onaminità le aliquote IMU per il 2023 e la delibera che fissa l'importo dei canoni di affitto e il prezzo di vendita per le aree e gli opifici di proprietà comunale destinate alle attività produttive e terziarie. Via Libera Unanima è infine anche a due debiti fuori bilancio e all'adesione alla Fondazione Rete Museale e Naturale Belicina. Angelica Aiello, neopresidente del Comitato di quartiere della Macara di Mazzara, cercare insieme ai cittadini soluzioni e fornire possibili risposte. Sono queste le sue parole. Ascoltiamo il servizio. Giunge in redazione una nota a firma di Angelica Aiello, neopresidentessa del Comitato di quartiere Macara di Mazzara, che integralmente leggiamo. Si sono svolte dal 13 al 16 marzo 2023 le elezioni per i comitati di quartiere e il nostro quartiere, il quartiere Macara, insieme ai quartieri Costiera e Transinico Torretta, hanno raggiunto il quorum ottenendo i propri cinque componenti. Gli eletti sono Angelica Aiello, con 347 preferenze, Salvatore Gianquinto, con 270 preferenze, Giovanna Russo, con 83 preferenze, Salvatore Cassenti, con 47 preferenze, Maria Ingargiola, con 42 preferenze. Angelica Aiello e Salvatore Gianquinto ricopriranno l'incarico di presidente e vicepresidente. Senza voler entrare nell'agone politico del dibattito sulle elezioni dei comitati di quartiere, riteniamo che la nostra funzione sia quella di cercare, insieme ai cittadini, soluzioni e fornire possibili risposte. Questo deve essere, ed è stato finora il nostro credo, fare e stimolare i cittadini ad essere parte attiva, propositiva, a fungere da stimolo e da pungolo per l'amministrazione comunale e il sindaco in particolare, che è il nostro punto di riferimento in quanto istituzione. I cittadini del nostro quartiere Macara, con il loro voto, hanno confermato l'intero comitato di quartiere, che già da anni spontaneamente si era costituito e occupato del proprio territorio, con diverse iniziative. Il quartiere Macara ha ispirato la nascita e l'istituzione dei quartieri a Mazzara del Vallo, che finalmente oggi vedono la propria istituzionalizzazione. Non a caso il quartiere Macara ha visto il maggiore afflusso di persone al voto e ha consentito alla Presidente di essere la prima eletta tra i candidati di tutti i quartieri della città. Questa fiducia e questa forza che è stata data all'intero comitato di quartiere ci dovranno essere da stimolo per rendere migliore le condizioni di vivibilità della nostra comunità. Abbiamo creduto fortemente nella creazione dei comitati di quartiere perché ognuno di essi ha le proprie peculiarità e dunque occorrono interventi diversi per rendere migliore la vita dei residenti e per sentirsi più vicini all'amministrazione comunale, presso la quale saremo portavoce delle richieste e delle istanze di tutti gli abitanti, afferma la Presidente. Un nuovo guasto ai motori della stazione idrica di Sinubio sta causando qualche disagio a Marsala per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Abbiamo già dato disposizione, precisa il responsabile della posizione organizzativa, Gaspare Zichitella, per riparare con urgenza i motori che si sono guastati e che sono alla base del blackout idrico. Nello scusarci per i disagi che questa delicata problematica sta causando, soprattutto nella parte più alta della città, ricordiamo che è operativo un servizio alternativo di approvvigionamento idrico a mezzo autobotte con priorità per i luoghi di pubblica utilità, quali ospedali e scuole. Da parte nostra, se non interverranno complicazioni, contiamo di tornare alla normale erogazione già da questa sera. Come ogni settimana la rubrica, secondo me, a cura del dottor Riccardo Larosa, questa settimana ha il titolo I giovani che decidono di isolarsi dalla società. Ascoltiamo. I kikomori non è una parolaccia, è un termine giapponese che significa letteralmente stare in disparte e che indica un fenomeno sociale e psicologico in cui i giovani si ritirano e vivono in isolamento sociale nella propria camera, a volte per un periodo abbastanza prolungato. Questo fenomeno sta colpendo molti giovani anche in Italia e soprattutto dopo la pandemia. L'isolamento può durare mesi o anni addirittura e non si risolve quasi mai spontaneamente. Allora mi sono chiesto, ricordando vecchie letture, se possiamo fare paragone con gli eremiti e gli anacoreti. Anacoreta, eremito e i kikomori sono tutti termini che si applicano a persone che scelgono di vivere in isolamento, ma con differenze molto significative. L'anacoreta, a volte è definito anche cenobita, è una persona che ha scelto di vivere in isolamento per ragioni spirituali o religiose e che trascorre la maggior parte del tempo da solo in preghiera, in meditazione o studio. La storia del cristianesimo è piena di queste figure. L'eremita, invece, è una persona che vive in isolamento, spesso in una zona rurale, ma la sua scelta non è necessariamente legata a motivi religiosi o spirituali. L'eremita può scegliere di vivere in isolamento per motivi personali, come la ricerca di pace e tranquillità, o per sfuggire allo stress e, come si diceva una volta, all'ocorio della vita moderna. Praticamente, per non avere rotti, non siate volgari, i kabbasisi. Per non avere rotti i kabbasisi. Cosa avete pensato? In sintesi, mentre l'anacoreta e l'eremita scelgono di vivere in isolamento per motivi personali o spirituali, gli hikikomori si ritirano dalla società a causa di problemi psicologici o sociali. Questi ragazzi trascorrono il tempo dedicandosi alla navigazione in internet, per esempio a un videogioco, disegni, insomma, qualsiasi cosa che li impegni. Ricordo di un ragazzo, che conoscevo personalmente, che si era ritirato in casa a produrre il limoncello, senza avere più contatti sociali. Quindi, appurato che il fenomeno esiste, diventa necessario approntare un sistema di controllo che permetta di intervenire in maniera rapida ed efficace. È vero che i problemi della sfera psichica in Italia sono appannaggio del Servizio Sanitario Nazionale, ma è pur vero che non ci si può limitare di interventi sui sintomi, ma bisogna intervenire sul problema. Non tutti i sintomi, infatti, anche se uguali, portano alla stessa diagnosi. Bene ha fatto in questo senso il deputato della Regione Siciliana, Onorevole Stefano Pellegrino, a presentare un disegno di legge che istituisce un osservatorio regionale a cui ricondurre tutto quello che riguarda questo fenomeno. In questo modo si potrà conoscere molto di più su questo disagio e si potrà intervenire sia nella formazione del personale socio-sanitario che nelle campagne di informazione per le famiglie, ma soprattutto nel supporto ai ragazzi colpiti da questo malessere, supporto che non deve necessariamente essere soltanto di tipo farmacologico. Il polo didattico universitario di Trapani ospiterà un nuovo corso di laurea, quello in medicina internazionale, e l'impegno preso nei giorni scorsi dal magnifico rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, nel corso di un incontro con una delegazione del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Trapani, guidata dal Presidente Vito Barracco e il Presidente del Consorzio Universitario Francesco Torre. Il nuovo corso di laurea, il secondo sull'isola, è unico per la Sicilia occidentale. Sarà avviato già a partire dal prossimo anno accademico 2024-2025, proprio all'interno del polo trapanese, mentre i laboratori saranno allocati all'interno della Cittadella della Salute, in strutture già messe a disposizione dal commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera. Ma a proposito di commissari straordinari, parliamo di quello del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, il dottore Raimondo Cerami, comunica che sono stati conclusi i lavori di restauro del Gruppo Sacro dei Misteri, la sollevazione della croce. Ascoltiamo il servizio. Il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, il dottore Raimondo Cerami, comunica che sono stati conclusi i lavori di restauro del Gruppo Sacro dei Misteri, la sollevazione della croce, che si sono svolte all'interno della saletta Limuli, sita al piano terreno della sede del Lente a Palazzo Riccio di Morana in via Garibaldi. Il dottore Cerami ricorda che con proprio provvedimento è stato concesso il patrocinio gratuito all'iniziativa del Ceto dei Falegnami, Carpentieri Navali, Corradori e Immobilieri, che avevano richiesto di utilizzare la saletta Limuli per i lavori di manutenzione straordinaria del gruppo e della statua raffigurante la sollevazione della croce, opera proprio del maestro Domenico Limuli. In questo modo è stato possibile trovare una sistemazione adeguata al Gruppo Sacro che per circa sei mesi è stato oggetto del restauro, dando anche la possibilità ai cittadini trapanesi e ai numerosi turisti di apprezzare da vicino l'opera e di conoscerne l'autore cui è intitolata la saletta. La gestione commissariale ha sostenuto l'iniziativa in quanto la stessa ha consentito, attraverso la formula del cantiere aperto, di dare la possibilità ad appassionati ed esperti di ammirare da vicino tutte le fasi della lavorazione, portando l'opera al suo antico splendore, promuovendo così il territorio e facendo conoscere ai turisti visitatori la storia e la cultura trapanese. Il restauro che ha interessato anche altri enti e associazioni della città di Trapani che si prepara alla prossima celebrazione dei misteri. Ci spostiamo nuovamente a Mazzara. Il cavaliere Giovanni Salvo, da sempre impegnato nel volontariato, nel pomeriggio di ieri ha incontrato presso il comune di Mazzara del Vallo il sindaco della città, il dottor Salvatore Quinci. Nel corso del cordiale incontro il cavaliere ha informato il sindaco della prossima pubblicazione del libro 25 anni di volontariato che racconta il suo impegno presso le associazioni Cavalieri della Repubblica Italiana e la misericordia di Mazzara a San Vito. Parliamo di sport, il mazzarese Pietro Vassallo della società sportiva Fighter Taquando Sicilia, campione d'Italia Juniors per le cinture nere di combattimento. Ascoltiamo. Nello scorso fine settimana nella città di Casoria si sono svolti i campionati italiani Juniors cinture nere di combattimento. L'atleta mazzarese Pietro Vassallo si laurea campione d'Italia nella categoria Juniors maschile cinture nere meno 59 kg. L'atleta, allenato dai maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, è cresciuto nel vivaio della società sportiva Fighter Taquando Sicilia, iniziando a praticare Taquando all'età di 5 anni. Pietro Vassallo, classe 2007, ha disputato un campionato italiano con grande grinta e determinazione, combattendo con avversari di altissimo livello provenienti da tutto il territorio nazionale. Per le categorie femminili ha partecipato Chiara Russo, fermandosi ai quarti di finale, ottenendo un quinto posto. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e della determinazione dei nostri atleti, che con anni di duro lavoro e sacrificio raggiungono un livello tecnico non indifferente, coronando un sogno che coltivano da bambini, dicono i maestri Gaspare e Maria. La nostra è una società sportiva che da anni lavora per creare tanti campioni nella vita e nel Taewondo. Siamo orgogliosi e felici dei traguardi raggiunti. A Marsala il calcio femminile batte 2-0 la GSL Woman con le reti di Pisciotta e Bernardini e si qualifica così ai play-off. Ascoltiamo l'intervista a Valeria Anteri, mentre vi ricordiamo che l'incontro e la partita tra Marsala e GLS Woman verrà trasmessa questa sera alle ore 23 sul nostro canale di Tele8. Mister Valeria Anteri, Marsala a GSL 2-0. Marsala conclude da imbattuto a punteggio pieno il proprio campionato. Si presenta da prima in classifica del gruppo A ai play-off, che cominceranno fra due settimane, la domenica delle Palme dovrebbe esserci la prima partita. Non voglio esagerare, però insomma è andato di fatto questo Marsala che viene fuori da una prestazione molto positiva contro una squadra forte. è la rivale del Catania e bisogna provare a vincere quarti e semifinali. E poi insomma, quello che avviene, viene. Siamo in una buona fase di forma e devo dirvi che oggi non era facile la gara completamente. Abbiamo vinto contro una squadra forte, hai detto benissimo. Gnocano, sono giovani, stanno crescendo a vista d'occhio. Guardate che dalla gara di andata alla gara di ritorno una crescita esponenziale, secondo me. C'è un lavoro tattico e tecnico dietro molto molto forte, quindi complimenti. Ci sarei arrivato. Sì, e quindi ci hanno messo molto in difficoltà. Devo dire che oggi le mie però, per come erano, sono entrate in campo con un piglio diverso rispetto alla partita contro il Catania. Secondo me, in ogni caso, avrebbero portato a termine la vittoria chiunque ci fosse stato oggi in campo contro. Noi siamo lì, terminiamo la prima fase regolare, prima in classifica. Andremo a giocare con alta probabilità contro lo Scicli, che ieri ha perso contro il Santa Lucia, quindi andremo a giocare la prima a Scicli. Ora pensiamo a raccattare un po' di... Di energia e recuperare, insomma. Pensiamo a raccattare le acciaccate, che sono parecchie, che oggi avete visto termine non c'era in campo, quindi era in panchina, ma è in recupero, per cui stiamo lavorando anche per quello. Ho fatto debuttare oggi un'altra 2009, siamo contentissimi di questo. Stiamo facendo quello che volevamo fare, fatti incredibilmente già sono due dall'Under 15 che sono salite nel 2009, hanno debuttato tutti e due. Se verrà la possibilità farò debuttare man mano che vanno, che compiono gli anni necessari. Io mi animo 14, quindi con l'autorizzazione. Come avete visto il Marsalacce, siamo qui per continuare il nostro percorso e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Il nostro miglior auspicio è arrivare fino in fondo, magari arrivare anche contro il Catania, per prenderci un po' la rivincita. Scherziamo sempre con Mr. Scuto su questo. Oggi vi lasciamo a conclusione del nostro Tg con il video realizzato dall'Associazione Demetra in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali. Vi auguriamo una buona visione e alla prossima edizione del Tg8 Informazione. 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 e alla prossima edizione del Tg8 Informazione.